Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con Far Cry Classic Diceva Doyle che qui ci dovrebbe essere Chrome Quindi prevedo già grosse rogne su questa missione Che cacchio accade Che cacchio, guarda quanti sono E' lui in cacchio Tutti in fila per tre con il resto di due Ca miseriaccia Chi è? Vieni qua Ma vuoi morire? Tu dietro la torretta? Ok Ce ne sta Uno Ce ne sta un altro Che Aspettate ma ce ne stava un altro Cacchio uno qua a sinistra Perché non me lo da Sulla mappa Ce ne sta, eccolo L'ho detto, ce ne stava un altro Eh, l'avevo visto Oh cacchio Guarda quanti Eh, ma vuoi morire? Ti è finire le munizioni Porco cane E mo' ti voglio Ah, ok Ci abbiamo quest'altro Menomale Forza Forza Preso Aia, 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 aia Sto messo male però Sto messo male di energie Preso Com'è già finita un'altra volta? Come cacchio è possibile che Che non c'ho proprio più munizioni? Cecchino è finito Oh, non c'ho più Proprio più munizioni Raga Come cacchio è possibile? Come facciamo ad avanti mo? Mo' sorrogne Nooo Tutto sta ammazzata per arrivare qua E non abbiamo neanche una munizione Ma che cacchio è successo? Ma tutti quelli che abbiamo ucciso adesso? Tiè, andiamo di granatine va Ma che cacchio devo fare? Ah, eh, lo sapevo Ma stiamo messi proprio male di munizioni Stiamo messi malissimo Ma non capisco il perché Nel senso quando ammazziamo i nemici I cacchio ci passiamo sopra Le recuperiamo Ma come cacchio possiamo fare? Qua ce n'abbiamo 50 Bisogna gestirle come che Proprio ad usarle in maniera Allora Piano così Dove stavano tutti qui cari amici? Eccoli Uno Forza Due Aia Però facendo così mi tolgono un mare di energie Tre Aia Tre Tre, tre, tre Aspetta C'è sta Uno lì C'errebbero sta due forse O uno solo Aspetta Eccolo Perfetto Aiaiaiaiaiaiaiaiaia Perfetto Dice che ho recuperato munizioni Speriamo bene 19 Più che altro non ho più energie Questa è la cosa che mi preoccupa di più Comunque Oh, immortali, immortale Ok Aia, 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 aia Tiè, prendite, prendite Tiè Dove stanno, dove stanno Tiè Sparo granate a destra e a manca Allora, conviene fare il giro ragazzi Non so se siete d'accordo Che almeno stiamo un po' più tranquilli Ok, può essere che neanche Aia, ci vedono come Ci vedono e come Sono uccisi tutti e due quelli Dimmi di sì, dimmi di sì Eccolo, uno qua Preso Ah, e dai Che cacchio è Che cacchio è Che cacchio è Mannaggia Ma che t'ammazzano Con un attimo così Manco te ne accorgi che t'hanno sparato Morto all'istante Morto all'istante Dai Elimina crowe E carica i dati del palmare Mannaggia La miseria Impossibile Giochiamo così quatti quatti Che non è possibile Ok Andiamo Tiè Una Tiè Tre Tutti laggiù stanno Tiè 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 Ok Ti faccio a pezzi Uno qua Aspettate eh Uno qua dietro Forza Oh Dai ma vedete che non muore Oh Che cavolo Non è possibile Tiè Qua dietro Qua dietro Perfetto Ricarica Finiti Dimmi di sì Dimmi di sì Che così almeno ce ne andiamo Guarda C'è tutta l'energia adesso La so fatta proprio Quatta Quatta Per Quella giù Perfetto Oh Uno qua Muori Non muore eh Mica muore eh Il tizio non muore Aspetta Uno qua E dai Che miseriaccia Vieni qua Vieni qua Perfetto Dai stavamo messi pure non tanto male con le munizioni Preso Tiè Vieni qua Ok Crow Rispondi Che diavolo succede laggiù Al rapporto Al rapporto Finalmente il dottor Krieger Chi parla Lo scoprirai presto Oh Aggressive L'amico Jack Però qua dobbiamo assolutamente recuperare energie e quant'altro Ok Prendi tutto Prendi tutto 193 munizioni Giai giubbottino antiproietti Le energie non ci sono Un kit medico Non c'è niente Vediamo un po' Qua c'è una statuetta Qua che è sto camion? Vediamo un po' Con un'antena Ok Doil sono al camion Connetti il PDA al dispositivo Ti trasmetto le Mi ricevi Jack? Mi dirico verso di te Doil mi ha detto che hai caricato le informazioni Ottimo lavoro Grazie E adesso Che si fa? Me ne devo andare col camion? Jack Trovato Questa è la posizione della fabbrica dell'agente mutageno Sembra addirittura che abbia una sequenza di innesco di un'arma nucleare tattica Nel caso dovessero coprire le proprie tracce Grazie Crow L'hai resa più facile Oh si Sono sicuro che sarà una passeggiata Pappagallino Jack Guarda la giungla Ora che abbiamo un po' di tempo per parlare Puoi mettermi al corrente di un paio di cose Kriger è un scienziato di punta alla difesa Specializzato in genetica Protocolli di miglioramento del combattimento umano I Trigen Giusto E la CIA cosa c'entra? I servizi hanno scoperto che Kriger realizzava test su cavi umani È passato al settore privato e abbiamo infiltrato Doil Per tenerlo d'occhio Quindi dobbiamo fermare Kriger o salvare Doil Sono qui per evitare che quei mostri escano dall'isola Ti ho portato con me perché potrei avere bisogno del tuo aiuto Quindi sono il tuo cavaliere Bravo Doil parlava di una base di mercenari in questa zona Andiamo a trovarli Mamma mia le rogne non finiscono mai Con che carravalerie avevamo già due belle mitragliatrici Una in mano e la seconda a vederti È venuta da sola Ci vediamo nel prossimo video con Far Cry Classic Ticca